Continua il momento negativo per la Turris che incappa nella terza sconfitta consecutiva, scivola fuori dalla zona play-off e vede avvicinarsi a soli 7 punti la zona play-out. Gli uomini di Fabiano escono dallo stadio Rocchi con molti rimpianti per una sfida che sembrava la portata ma che ha visto i padroni di casa della Viterbese a giudicarsi i tre punti con un netto 2-0. Prima parte di gara l'insegna dell'equilibrio con il giallo-blu a fare la partita e Corallini pronti a ripartire. La Turris si rende pericolosa con Romano che dal limite impegna severamente Daga alla deviazione in angolo, poi è Baschirotto a mettere i brividi a portiere Corallino con un gran tiro che sfiora l'incrocio. La ripresa si apre con una bella rovesciata di Reinone che non trova la porta. Al quarto d'ora da un calcio d'angolo la palla finisce in qualche modo ancora Baschirotto che da due passi batte inesorabilmente a Bagnale per il vantaggio dei laziali. La Turris fatica a reagire e a pochi minuti dalla fine subisce il contropiede di Murillo che serve Tunkara a centroarea per il facile 2-0 che chiude il match. Ora i Corallini sono chiamati alla reazione per non essere risucchiati nella zona calda della classifica. Domenica prossima l'impegno interno contro il pericolante Bisceglie sa già di scontro diretto.